A me da piccolo mi leggevano le cantiche della buonanotte e nonostante ciò scio me ne scire so di non sapere, ogni tanto penso con angoscia a cosa sarebbe la campania a livello culturale senza l'apporto unico ed insostituibile della... eccolo lì, della regione no perché senza la regione la campania oggi non avrebbe nemmeno i nomi sui citofoni perché i cittadini non li saprebbero leggere nelle case dei cittadini c'è il rubinetto dell'acqua calda quello dell'acqua fredda e quello dell'inchiostro per scrivere i saggi di filosofia con la penna d'occa